vedi guarda no vabbè c'è capito e adesso già siamo sì ho messo a registrare allora qui contenitore libero sono le sette sei le sette sono le 20 e 44 del 7 giugno io voglio fare l'inception 2024 è un pochino strana fa vedere quindi dall'orologio si vede allora sì dall'orologio si può monitorare appunto la vedi possiamo anche monitorare mi sento una bumerona in questo momento comunque questo è un test per vedere un po all'aperto come se la cava questo microfono almeno sembrerebbe che entrambi c'è il segnale e si può vedere anche da lì possiamo fare tanti video all'aperto muoverci perché adesso sicuramente sì si sente ci sono dei buoni microfoni dentro però con la lontananza è veramente faticoso diciamo che te la svolta cioè tu puoi avere anche le mani libere puoi fare un'intervista parlando in maniera assolutamente è leggerissimo è leggerissimo tu pensa col col microfono così il filo cioè sarebbe molto anche per quanto riguarda il vento anche per quanto riguarda il vento sai quanti blog quante cose si possono fare io ora dobbiamo per farla proprio completa e professionale bisognerebbe prendere anche se un pochino mi vergogno magari andando in un ristorante il faretto il faretto quello che si attacca al cellulare quello portatile esatto no 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 perché bisogna prenderlo ma perché uno magari si fa quel vloghettino per il proprio canale qui insomma ormai cani e porci c'è nel senso li fanno anche già noi siamo rassicuriamo mamma delia non non lo respira e non è niente di illegale è un sigarino aromatizzato all'anice che fumerò una volta ogni tanto sono talmente poco tabagista che oggi col vento ma anche in casa non mi riusciva cioè tipo ci ho messo tre giorni per fumarmi in sigaro alle volte non lo fumo così e spenderò tre euro al mese e non tutti i mesi di sigarini che si può costa un po costante è veramente una bella location vero prima compravo prima compravo i sigarini che costavano euro non li fanno più non non si trovano più tu pensa erano tipo cartonato che si bruciavano subito per avere un audio ottimale dovremmo stare con la faccia appiccicata al telefono invece così puoi stare veramente con una visuale è ampia non stai però se ti allontani troppo e sei in una zona un po così dopo beh sì meglio evitare in quel caso ora siamo in un parchino molto tranquillo però vabbè non faccio nomi di città perché comunque poi se la pigliano a male tutte le città sono a rischio ormai tutte le città assolutamente però vedi uno può anche avere la visuale pensa questo sarebbe sai come sarebbe utile se la videocamera fosse al contrario quindi si potrebbe sfruttare al massimo anche la qualità superiore della della camera frontale al contrario però monitorarsi da qui per l'inquadratura quindi si possono fare veramente tante tante cose a te da fastidio non è molto leggero tranquillo forse un po troppo lontano no no ma è abbastanza vicino così dunque oltre a questo è un secondo video di prova a prova all'aperto di che si discute che ci sta sempre da fare boia ecco parliamo anche allora parliamo anche di un falso mito no c'è tutt'ora a si io ce l'ho gli argomenti no 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 posso dire una cosa il primo argomento tu allora tutt'ora magari vedono i nostri video come dicevo questi non c'hanno un cavolo da fare no però effettivamente palestra lavoro io palestra sono in costante si vede il fisico ti è migliorato un sacco a te tu sei stato costante domani anzi adesso facciamo la passeggiata poi faccio un altro lavoretto in studio e poi domani mattina palestra prima cosa cioè se avete un progetto qualsiasi progetto ora questo qui sono due chiacchiere tranquille buttatevi fatelo non cercate scuse di ogni tipo un corso io ora ho fatto il corso di sommelier tu hai iniziato un corso non ho iniziato un altro e stavo pensando di fare anche un master di però insomma è costosetto un master figo sto valutando e investite in conoscenze informazioni che vi arricchiscono ve le ritroverete studiare 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 assolutamente la borsina e le scarpine che prima compravo compravo ancora vado avanti di scarpe e borse comprate dieci anni fa ma ero fissata per fortuna non ci spendevo tanto tipo di scarpe costo 7 ce ne avrò un paio se no ma volendo potremmo itinerare vediamo già di per sé stabile allora diciamo che allora vanno capite alcune cose qua come mantenere sempre stabile la situazione con i cavi collegati ecco più che altro uno dovrebbe riesce a metterli a posto lì ecco così ci si potrebbe spostare finiamo il video e poi continuiamo così a camminare ha messo tutto a posto si chiudi tutte le cerniere chiudi tutto ti volano via le cose comunque sì periodo di studio lavoro insomma sto approfondendo tematiche di economia in generale comunque in generale non un attimo così metto no con due mani prova con due mani per essere più stabile non fatevi inibire fate quello che vi fa stare bene non seguite la massa cioè che se non uscite il sabato se non fate quelle cose che fate siete degli sfigati e poi se non fatevi inibire cioè poi soprattutto riguardo le borse le scarpe no cosa vi lasciano cosa vi lasciano ma assolutamente c'è soprattutto che c'è gente che addirittura spende un intero stipendio l'unica cosa l'unica cosa delle borse che aveva senso ad esempio comprare una borsa firmata che nel 2020 magari costava 700 euro a fine di proprio di investimento sono aumentati tantissimo anche i prezzi delle borse lì magari aveva più senso comunque ognuno ha le sue passioni ma se acquistate una borsa per uscirci e farla vedere agli altri e non per una vostra soddisfazione chiedetevi ma lo sto facendo per gli altri se lo fate per gli altri levateci mano si può dire levateci mano? no è molto dialettare lo so a parte questo lasciate proprio perdere perché comunque bisogna fare le cose per se stessi non vuol dire essere egoisti e non essere egoisti però comunque a parte questo cosa vuoi aggiungere riguardo il fatto degli altri che gli altri che si concentrano sulle vite degli altri perché quello racconta un po quello che mi è capitato negli ultimi giorni di persone che hanno bisogno di andare a pescare i clienti degli altri insomma la concorrenza che anziché pensare al proprio cercano di mettere zizzania per portare dalla loro parte dei clienti e non è la prima volta che mi capita tant'è che ad esempio questo tizio qua ha chiesto le tracce di un mio progetto nel 2020 dicendo a detta sua di migliorare quello che avevo fatto io che in realtà l'ha peggiorato tantissimo tra l'altro io mi pento io l'ho visto e che io non ci capisco niente ma delle cose veramente assurde proprio brividi di schifo ecco esatto da attraversiamo sì insomma io ingenuamente mi pento di averlo fatto per una questione di pacifismo e tutto ho dato le tracce separate del progetto che c'è gente che se le fa pagare parecchio questa cosa qui se mi dovesse contattare il volevo le tracce del mio cliente io gli chiedo un botto ecco gli chiedo un botto perché poi ha rubato anche cioè te lo potresti anche querelarla perché l'ha rubato un pezzo di canzone tua no in pratica ha lasciato non era previsto che lasciasse cioè ha spacciato la mia voce per la voce di un altro cioè ma ci rendiamo conto della cosa assurda cioè tu stai mettendo la mia voce cioè mi hai usato come ghost voce come si dice allora ma io ci rido perché comunque è tutto surreale vabbè ma questo qui non è una persona professionale un professionista cioè è uno scappato di casa purello quindi però questo è come il prezzemolo e va contattando chiunque e qualcuno magari ci casca capito è questo che è veramente assurdo qualcuno c'è cascato perché questo è proprio ma poi voglio dire cioè fa questo fa anche promozione manda nelle radio nelle radio tipo sfigatissime tv sfigatissime di quinto ordine e quello sai cioè fa promozione anche sul suo canale di youtube e ci ha 100 iscritti e poi si compra i commenti palesemente fasulli che poi c'è da dire una cosa adesso come quel video non sia che mi ha fatto vedere ieri non sia su intrascendimento non lo so ma poi allora la cosa assurda anche gli gioverebbe che adesso comunque si stanno mettendo bene e male le cose per quanto per chi compra delle visite fasulle ad esempio anche su spotify se tu hai fatto promozioni fasulle ti buttano giù il pezzo e ti arriva poco la multa cioè capito il problema in quel caso è ad esempio io distribuisco un mio artista no? sì e magari questo fa lo sleale e ci vado di mezzo io che ho caricato il pezzo queste potrebbero essere le conseguenze cioè io penso che dovrebbe essere perseguibile chi fa ecco questo tipo di operazioni cioè capire esattamente da dove partono perché chissà chi se l'ha fatto chi cari oppure un gruppo ecco un gruppo di cinque persone fa una promozione sleale su questo su un pezzo no? giusto? si deve capire esattamente da dove viene il traffico sleale ora stiamo facendo un video lungo è un video lungo? no vabbè questo è ok te poi quando parti con questi argomenti ovviamente è il tuo dai attraversiamo qua ci sono le strisce attraversiamo tu quando parti con questi argomenti io giustamente sei preso e vai quasi sul tecnico ora non tanto però beh il fatto sta che bisognerebbe io stasera ho le tasche interne piene di roba è unire chi se lo merita e basta poi vabbè ci potremmo anche ci potremmo pure spingere verso le cose che stanno succedendo adesso vedi angelo greco che ci ha illuminato sulle nuove proposte di legge sul fatto che per quanto ecco si rispettino ovviamente le forze dell'ordine è giusto che le persone paghino se fanno delle azioni sbagliate e non vengono così senza prove ecco chiunque che sia un facente parte di qualsiasi tipologia dovrebbe essere giudicato per le azioni giuste o non giuste esatto non che a prescindere tu senza prove solamente perché puoi mettere i guai delle persone già c'è per la qualifica ci sarebbe troppo abuso di potere da parte delle forze dell'ordine perché ma il problema fare parte far parte delle forze dell'ordine non vuol dire essere persone oneste cioè ovvero ci sono le forze dell'ordine che sia non nomino i corpi insomma che siano sono impeccabili certo certo come qualsiasi categoria come qualsiasi categoria attenzione però è giusto che chiunque allora deve essere punito con delle prove ma posso dire una cosa ora hanno cioè anche spesso troppo poco potere ovvero io non sopporto la cosa che in Italia se qualcuno ruba in un negozio non gli puoi dire nemmeno guardi mi faccia vedere la borsa non puoi fare niente ha le mani legate ma sì ci sono gli eccessi da un lato e dall'altro esatto nel senso ho troppo poco potere alla polizia ma te lo sapete e non è giusto che abbia troppo poco potere in favore dei criminali cioè questo è ovvio cioè noi non siamo a favore dei criminali ma ci mancherebbe ma nemmeno a favore di a priori a priori cioè come fai magari sul personale c'hai un astio con uno che fa il polizietto poi gli stai sui coglioni e dici ha fatto questo punto vabbò l'ha detto la forza dell'ordine è stato di polizia lo stato di polizia è una stronzata e quindi ma ci sono troppe cose che stanno andando a rotoli cioè siamo siamo a ridicolo più totale oppure lo sai anche se ti beccano a rubare questa è una cosa anche del nuovo governo e però te dici vabbè pago tutto non ti fanno niente e vabbè quindi per un lato e poi guarda io non non sono ferrata in politica attualità non sono così ferrata però ehm non occorre essere un un esperto un politologo eccetera eccetera per capire quante merdate e che a proposito c'è una notizia che raccoglie la merda che bello cosa raccoglie la merda no questo cagnolone stupendo ah bello stia facendo sto governo c'è una roba proprio comunque parliamo di cose più leggere si infatti cioè si sta saltando un attimino di ma ha sentita quella ventata di merda e vabbè purino ha fatto i suoi bisogni tutti hanno bisogno ho una ventata proprio mi è arrivata perché siamo all'aperto ho capito ma forse sento il sigaro no l'ho sentito l'ho sentito proprio pieno c'è proprio boom boom sbam di brutto quanto è bella zona tortaia ad arezzo qui alle scuole via alfieri mi mette bene via alfieri facciamo una panoramica ora qui non è così non sembra così bella però più giù c'è più verde anche dai arrivano le bici spostiamoci spostiamoci di qua ok dai siamo arrivati quasi a 18 minuti che abbiamo detto evitiamo anche ma nulla di che tutto e niente evitiamo anche di inquadrare le persone qui mi piani delle persone ciao ma loro vogliono entrare vogliono entrare magari sì ecco stanno tornando indietro o magari pensano che è questo qua là come ti chiami questo? ah il canale? YouTube ah vabbè allora vuole partecipare qua contenitore libero su YouTube contenitore libero lo chiamo? ah di cerca fantastico contenitore libero sì questo poi magari stasera domani si carica allora ti iscrivi al canale? ah iscrivi parla come ti chiami? contenitore libero vediamo ora lo facciamo iscrivere in diretta vedi? te scrivo no no in dire sono benghese no in diretta non in diretta ah ok te chiami? ah scrivi scrivi ah sì te lo scrivo io contenitore libero tu che fai di bello? ho punto no? sì sei qua da poco? sì solo non parlo tanto è tanto però capisci bene sì ad Arezzo da quanto tempo? quanto tempo ad Arezzo? in Italia? in Arezzo? un anno ah un anno un anno cosa fai di bello? eccolo questo qua tutti tutti bello sì sì tutti bello ok ok bene bene e di dove sei? ah sì sono Arezzo originario ah no dice originario siccome ho detto in diretta ha detto no India Bangladesh ah no Bangladesh ciao 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 piacere piacere ciao va simpatico vedi noi lo grazie grazie non volevamo inquadrare invece si è proposto da solo questo è il bello così del del video libero così vabbè dai abbiamo concluso in bellezza io chiuderei a 20 minuti circa il video eh contenitore libero qui contenitore libero abbiamo anche un nuovo iscritto eh fantastico sette mi ha dato mi ha dato il cellulare in mano e mi ha detto cercami il canale no? hai visto sette dicembre sette giugno 2024 sono le 21.04 ciao alla prossima ciao